Ado è come il pensionato Il pallone Devo andare Ma è morto anche quell'altro Con te? E' così curvato Ma non basta Ma non c'hai beccati Ma stai zitto 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 Poi vorrei bene io per una volta No No Ma stai zitto Ma stai zitto Ma stai zitto Pape Metti giù Ehi Ci sentono Non voglio Ma stai zitto Sì Ma stai zitto Ma stai zitto Ma stai zitto Ma stai zitto Luca 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 non voleva Il pescatore 3 e 4 farendette il bottino di oggi Luca il bottino di oggi papà spostati ti metti sempre davanti a mamma che non voglio riprenda riprenda non l'ha costruito il tuo posto e tu già ti sloca ti sloca ti sloca la prima la prima si la prima si non 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 giro ti moritozo ma shaikkon marid medici chik 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 sikora yaqik chikoo o yuca o fa Sì Grazie Ale guarda che foto No ma no Cosa ci vorrebbero zio? Casano ori Il nostro corso gratuito è un po' di più. Io non c'è nessuno, non c'è nessuno Il numero fa per 2,5 euro Non c'è nessuno Il numero fa per 2 euro Il numero fa e 2 euro Ora ci sono un pittepat non c'è un po' di caccia cusine 2,50 euro o 2 euro non si riuscano al computer e ti cacci in colonia dopo perché c'è un colonia che fai Alessandra, no, no, aspetta ma riprendi veramente ma stai riprendendo? si, non è ma trovi da ciccata ma ripiccata mamma guarda chi c'è ma quanto vuoi? ma non sfida si allora mi fai volare non sfida non sfida ma non viene ma non viene guarda 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 è una foto si puliscono il bagno un bagno un bagno e poi giuditi facciamo così c'è schifo qui io adesso schifo ormai vabbè non è mica bella vabbè il tuo coltile vengono e l'inversazione di pepra Hanna ti spasmetti? Sì mi hai fatto una dipensazione così è più grosso vieni su venite da che casa? ma non è ma non è ma non è sì è vero non è vero adesso ci faccio più acteri Ma te la faccio via! No, no, un po' Dammi la foto! Ho sbagliato! Mi senti che è bello se ti faccio fare un colpo! Prima vai cominciando! Sì! 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 non si è mamma che la fotografia non mi riprendi non guarda mamma 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 non mi riprendi mamma to colina to colina mamma mamma mi riprendi argo mamma 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 No, 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 no. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.